Amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazione autosportive avete una macchina con problematica al FAP, problematica la di blu, la macchina vi dà problemi, avete deciso in maniera del tutto autonoma e sotto la vostra responsabilità di eliminare il FAP facendolo fare all'officina di mi cugino che così spendete meno e tutto quanto, seguite il video così magari imparate qualche cosa, soprattutto imparate la procedura corretta prima di fare spendere dei soldi e poi trovarvi comunque con dei problemi. Sigla! Allora come dicevo questa è una Hyundai Santa Fe che c'è entrata un po' di tempo fa con una problematica cioè spia motore accesa e problemi di funzionamento abbastanza consistenti, al di là del fatto che il cliente ci ha chiesto di fare il tagliando, la cinghia di distribuzione, queste cose qui c'era da risolvere un problema legato al FAP dove il cliente si era rivolto, non facciamo nomi perché ovviamente non è la nostra abitudine fare nomi di altre officine si era già rivolto a un'altra officina per risolvere il problema del FAP perché questa macchina ha un certo numero di chilometri il FAP si era intasato e quindi ha deciso di adottare la soluzione di eliminare il FAP. Vabbè fatto il lavoro dopo neanche tantissimi chilometri il problema si ripresenta paro paro siccome questo cliente a naso non aveva molta fiducia in questa officina ci ha mollato la macchina ci ha mollato le chiavi per fortuna ha detto avete tutto il tempo che volete addirittura ce l'abbiamo in carico dal dall'inizio delle vacanze perché ce l'ha portata agli ultimi giorni e ci si è messi a lavorarla praticamente adesso e che cosa abbiamo scoperto che il lavoro del FAP così come abbiamo verificato ma veramente tante tante volte ci sono tantissime officine che lavorano benissimo anche meglio di noi questo è in dubbio ogni tanto ci sono alcune officine che o per fretta o per incompetenza lavorando appunto sul discorso del FAP lasciano il lavoro a metà e creano chiaramente delle problematiche alla vettura in sostanza che cos'era successo abbiamo anzitutto aperto il FAP cioè non è che abbiamo aperto il FAP abbiamo aperto le sonde lambda siamo andati all'interno con le sonde con le sonde ottiche e abbiamo visto che il FAP era assolutamente integro in sede cioè non era stato né tagliato né bucato né altro il FAP era assolutamente in sede cioè la parte meccanica era assolutamente integra poi abbiamo analizzato la parte elettronica e invece la parte elettronica in maniera del tutto anomala era stata modificata non era stata modificata in maniera del tutto corretta comunque erano entrati in elettronica avevano comunque chiuso i cicli di pulizia e poi avevano fatto un piccolo pastrocchio sulla parte diciamo di centrale elettronica per cui abbiamo dovuto rifare anche quello però almeno la parte elettronica l'avevano intuita e diciamo con beneficio di inventario avevano fatto il lavoro corretto cioè erano entrati nel file e avevano bloccato i cicli di pulizia quindi in sostanza la macchina andava con i cicli di pulizia bloccati e il FAP in essere ecco perché dopo mille mille 500 chilometri la macchina praticamente il FAP non avendo più i cicli di pulizia il FAP si andava automaticamente ad intasare fino al punto in cui la macchina praticamente è andata in protezione e non andava più con un rischio enorme di far fuori anche la turbina perché ovviamente il FAP è un filtro che è a valle della turbina se si intasa completamente nel pezzo di tubo che va dalla turbina al FAP praticamente i gas di scarico non vengono più espulsi aumenta in maniera esponenziale la temperatura del gas di scarico e le bronzine della turbina è la prima cosa che parte quindi questo è per farvi capire abbiamo chiaramente smontato il FAP sistemato nella giusta nella giusta maniera rimontato abbiamo rimappato la barra elettronica ovviamente abbiamo rifatto di nuovo per sicurezza anche la chiusura di cicli di pulizia adesso la macchina come lavoro sempre sotto responsabilità del cliente perché come diciamo tante volte è il cliente che decide di fare una cosa dove la macchina non è più a norma è sempre a riscrizione del cliente cioè noi facciamo un facciamo firmare una carta dove questo tipo di lavorazione e ne scriviamo in maniera cubitale è solo per utilizzo agonistico quindi uno la può o per aree chiuse o quant'altro se poi il cliente la vuole usare per la strada è libero di farlo però diciamo chiaramente che la responsabilità di un lavoro del genere è sua adesso comunque da un punto di a noi interessa che il lavoro meccanico sia stato fatto in maniera giusta e corretta e questo è quello che è stato fatto quindi questo video non è tanto per descrivere l'ennesimo lavoro di soluzione sul FAP ma è più che altro è stato diciamo lo facciamo per farvi capire attenzione anche a coloro che mettono le mani su questo sistema perché non è così semplice come potrebbe come 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 si potrebbe pensare stesso dicasi per il discorso della di blu questa macchina non ha la di blu però mettere le mani sulla di blu significa anche lì fare un intervento sulla centenaria elettronica e un intervento anche andando a scollegare certi sensori sul serbatoio della di blu se uno non fa una di queste due cose la macchina continuerà a avere dei problemi per cui voi avrete speso dei soldi e li dovrete e la macchina continuerà a non andare bene quindi attenzione a chi vi rivolgete attenzione a controllare bene che il lavoro sia stato fatto in maniera corretta io spero ogni tanto capitano queste cose però noi cerchiamo di aiutare tutti i clienti anche a risolvere delle problematiche passatemi il termine fatte male o causate da altri magari un po meno competenti io spero che anche questo video vi sia stato utile nel frattempo vi chiedo di cliccare sulla campanella in basso a sinistra che tanto è gratuita non vi costa niente per noi è molto importante iscrivervi al canale in basso a destra per rimanere sempre aggiornati tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima ciao 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 ciao